Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo giorno ma non è ieri, mi sono dimenticata di farmi lo shampoo mi sono messa a presa quella macchina la Cricut per fare queste scritte dopo vi faccio vedere il fuori morta, terminato non mi piace tantissimo però non è venuto neanche malissimo ma piove ancora se mi piove e quindi ma niente, ieri ho perso poco tempo con questa cosa stamattina così, mi chiamo a messa e ho portato tutti i bambini a presa me li sono portati tutti perché di solito Cristian e Jacopo non vogliono venire stavolta invece me li sono portati e andiamo oggi per noi domenica oggi pomeriggio Vincenzo vuole andare dal suo negozio Axon penso si chiami così buongiorno siamo tornati a casa madonna le mosche una cosa esagerà ieri ho preso anche le castagne ma me le metto un attimo a tagliare e poi le lascio un po' in ammollo in acqua e sale e poi dopo le vado a cuocere in friggitrice ad aria e io le taglio così vedi a metà e basta ninja apri un po' questa è la test Cristian mi taglio un attimo a cartagne comunque ne ho presi che saranno 100-150 grammi 200 grammi 2,10 euro ho perso una castagna questa tecnica se non ricordo male dovrebbe essere aspetta dovrebbe essere per farle ammorbidire e quindi dopo farle aprire meglio io mi trovo bene quindi l'ho sempre fatta così e devo dire l'avete sono sempre venute buone 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 allora mi sono cambiata un attimo la maglia e vi voglio far vedere vado a fare le fette di pane con la salsiccia sopra invece di fare sempre questa salsiccia al forno e la voglio mettere appunto sopra la fetta di pane le fette di pane madonna sta porta c'è la pendenza e quindi si apre ogni volta ecco qua ora metto la oh abbassate un po' metto la polpa di salsiccia in una ciotola qui sono 5 salsicce poi ci metto che ci posso mettere più giusto qualche piccola spezia e stop il sale no perché la salsiccia tanto già è salata avete capito e la metto sul pane qualcuno mi ha consigliato anche lo stracchino la robiola ma non c'è l'ho sta roba quindi ci metto questa qua e dopo sopra per chi la vuole la fettina di scamorza e le facciamo sul barbecue e poi dico ma fa pure sotto il forno però o no solo poi sporco il barbecue a volte madonna devo fare pure una pulita al forno che è uno schifo ma proprio uno schifo per dire uno schifo e non è che quando a volte dicono uno schifo vai vedendo il forno è pulito no è proprio sporco stanno tutte macchie maronna mi scoccio a volte sai il pen di come mi compro il forno nuovo così è bello pulito e sistemato ci metto giusto un filino d'olio ma poi con una punta ok vediamo un po' come spezie il pepe non ce lo voglio mettere perché solitamente ci sta quindi ci metto giusto un po' di noce moscata che gli dà un bel sapore la finocchietta pure ci sta dentro il finocchietto e ci metto questo raga non so è pure finito io almeno lo consumo queste sono delle spezie greche che ho preso tempo fa l'idola controllo sempre che non ci siano né animaletti né nulla che ci sta poi qua dentro sale, paprika, pepe nero cipolla prezzemolo origano rosmarino aneto timo maggiorana coriandola basilica pimenda aglia vabbè ci stanno qua finirò e quindi il sale non serve ora andiamo a schiacciare se vi fa schifo con le mani mettevi i guanti ora mi sciacquo le mani e poi le andiamo a mettere sulle bruschette il pane questo qua io ce l'avevo congelato già tagliato a fette lo congelai ora ne metto un pochino e poi dopo se avanza aggiungo altra salsiccia non facciamo questa salsiccia in due forni non possiamo se si mangia e la roba se qui ci fa ci stava provola terminate ora ve le faccio vedere non so se cuocerle in forno o sul barbecue vi ripeto non ho proprio idea ora vedo su google la cottura in forno com'è o altrimenti passiamo sul barbecue e queste qua sono le bruschettine belle terminate dopo chi la vuole sopra bella calda calda ci mette la scamorza e stop allora devi stare in silenzio non so se sentite il suo lamento una continuazione così avete facciato il barbecue oui 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 Cristiane devi finire di mangiare oh però devo togliere i panni bravo Vinci ma queste sono ancora crude però Jack bravo bravo bravissimo 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 e ho avuto un po' i panni più in là perché stamattina ne ho approfittato che il tempo è buono ho steso i panni sono le lenzuole stamattina mi sono cambiato il mio letto e ho lavato anche qualche asciugamano passo qua almeno subito faccio e loro stanno là eh mi sono ricambiata per l'ennesima volta mi sono messa la mi sono messa la dota perché il jeans niente ragazzi ho mangiato troppo mi andava stretto comunque per chi dice la maglia ma te la sei messa alla comunione te la metti per cucinare te la metti per uscire allora io questa qua l'ho comprata per andare alla comunione poi alla fine è una magliettina semplicissima vedete è l'unica cosa che io ci misi due spille per renderla un pochino più elegante e per abbinarla al pantalone però alla fine è una magliettina semplice raga la pagai 6 euro se non erro guarda 6 euro e quindi la metto sempre eh questo è un genio andiamo a sto vulcano buono centro commerciale io non ve la voglio eh allora riesco manca a respirare salto in bocca il bicicletto da bevetele con mezzo elettrico ah dai guarda perché si è bloccato a mezzo elettrico dai guarda adesso eccoci qua arrivati eh allora io con la scusa di questo faccio pure il video così vediamo dove sta la macchina ok eh vai andiamo e ora dobbiamo tornare indietro nonno Italia prende le scale mobili ciao Lia andiamo eh ora lo schizio di prendere l'ascensore questa qua trasparente primo primo numero uno è premuto uno ora di qua si vede vediamo tutto intorno è tutto trasparente fermo vincendo è canno uno andiamo è leggermente paulosa ciao Lia ah ma pure sopra è trasparente è tutto trasparente mamma mia scende scende finalmente trovato e arrivato oh è come gigante facciamo chissà prendi lo giusto per sfizi il carrellino no e poi chiammi chi su qua che è più comodo oh la cioccolata la cioccolata questi qua sono buonissimi no vabbè ah vediamo qua che vendono allora prima qui si fa la pittura queste sono le cose più pitturale qui non costa di colla a caldo guarda che ho trovato questo vaso qua si ha già mandato io Deborah ho trovato il mio vaso vaso Deborah vieni come è prima è una roba è Natale sono per questo sono per questo sono per questo che è questa roba oh vedi questo un vassoio di legno con i piedini che ti ha comprato mamma te la pallina oppa cuori belli allora vi faccio vedere cosa abbiamo preso da action aspetta che si legge questo è il negozio che ora va di moda e vediamo cosa ho preso allora mi sono presa come prima cosa lei la pink stuff la pasta questa si è scritta pur dietro è la pasta che fa miracoli vedi allora detergente pink stuff è un detergente versatile che fa miracoli cioè l'hanno proprio scritto e quindi io sono curiosissima poi di andarla a provare l'ho pagata oh profumo mi sembra buono e poi vedremo insieme anche perché ho una macchia sul piano cottura che si è fatta con una padella e non si leva assolutamente con la spugnetta e quindi voglio provare questa poi ho preso la pittura perché questo qua sono appunto gli acrilici mi serve a me per fare questi cuori porta e poi vabbè anche per i bambini se vogliono pitturare e poi ho preso pittura oro e oro rosa molto molto carini sono i grandi la 250 ml l'ho pagata di 2 euro invece dai cinesi quelli là piccolini in euro e 50 tutta sta confezione l'ho pagata ma neanche 3 euro mi pare poi per stasera per assaggiarli ho preso questi noodles vediamo come sono li ho pagati 35 centesimi mi pare e quindi ho preso questi qua e poi per terminare giusto ultime 3 cose con la caldo questi biscottini così come che viene Jacopo rimane bello contento ah Cristiane si è preso un bustone di questi Kit Kat pura bevanda che la brutta finita beva no è la russa che non ci sta bevanda ma forse sta di là e poi ho preso questo quadro che vorrei farci un qualcosa poi vi faccio vedere aspetto che qua ci sta pure qualche altra cosa sempre via la pallina mia la macchinina Jacopo perché stamattina una signora che conosciamo gli ha fatto un regalo a livello di soldi e quindi si sono presi loro qualcosina così una macchinina Jacopo e Cristiane sta bevando acqua si è presi e sneakers poi da Teddy ah questa è a butte Cristiane Rick Kit Kat poi siamo andati da Teddy ce ne sono 12 poi da Teddy e lì ho preso un altro quadrettino questo qua invece l'ho pagato un euro l'ho preso perché era appunto in offerta un euro solo poi vabbè qui c'è il regalino dell'amichetto di Cristiane ha preso così un profumino poi mi sono presa questo ramettino così sempre per andare a fare poi tutte le fuori porta questa spugnetta che è simile alla a questa no aspetta quella qual è la scrub quella la non so come si chiama comunque l'ho pagata un euro questa spugnetta questo che si è scritto normale use road jobs road touch che si è scritto tutto in inglese è per il barbe la doccia vediamo che si è scritto in italiano allora spugna super rimuove macchie sporco in tutte le aree difficili da raggiungere con poco sforzo per un risultato lucente senza graffi quindi proverò questa insieme alla pink stuff per questa macchia su piano cottura che poi vi farò vedere poi sempre ai bambini ho preso questo le gomme questa è la gomma alla fine poi ho preso più siramettini così sono le 6 e 5 dove devi andare le batterie lo scotch ci siamo più scotch al task e poi i pallini così e basta ragazzi questo è tutto in totale ho speso in totale ho speso 20 euro da una parte e 15 euro da un'altra ok sia tu di là va vabbè ragazzi adesso sistemo e va bene così e ora provo anche questa qua mi sono messa un attimo qui al pc a fare un attimo quel cosino a fare un attimo Guarda eh Io comunque mi sono fatta docce e shampoo Gli occupo soltanto che ha preso il telefono Si ha messo a giocare La pallina che abbiamo comprato Calina Guarda aspettate Aspettate L'hanno visto già pure l'altra volta Abbiamo fatto sempre lo stesso video Comunque ho fatto scrivere un po' E poi sto aspettando Cristian Che torna Che è andata la festa di compleanno Mamma lo posso copiare io? No 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 copio io Allora giorno dopo Ieri poi L'avete visto Jacopo si è preso il telefono Quindi non ho fatto più Non ho più registrato Né nulla Ok Vi voglio far vedere il fuoriporta Però ancora lo devo terminare E niente Mo sono tornata Mo mi faccio un bel caffè Questi suoi capelli Stamattina Non so come cavolo li devo mettere Ieri siccome ho fatto tardi Me li sono fatti ricci Senza passare Né piastre Né nulle Ho messo giusto un po' di spuma E questa è la situazione Maronna mia La mattina siamo stanchi Io non lo so ma la notte non dormiamo Per fortuna che riposiamo Dormiamo Allora eccolo qua Ve lo faccio vedere un attimo Prima che mi dimentico Allora Questo è così È proprio la forma che ovale Perché è appunto una base di legno E c'è scritto Benvenuti a casa nostra Ora poi lo vado a completare Con il fiocchetto Poi lo vado a completare Con altre varie cosine Comunque devo vedere Se le trovo O più rotonde Cioè un po' più Precisine E questo è Ci devo mettere ancora Poi i gancetti Qua dietro La cordicina Per andarli poi A mettere appesi Questo e poi ho fatto Anche già l'altro Per Natale E mi piacciono E mi è sempre piaciuto farli Però poi va bene Erano Insomma poi alla fine Ho abbandonato tutto Comunque ragazzi Ah mo mi sistemo qua Ci sono fatte già le nove E E nada Per pranzo Questa settimana Ancora non mi sono fatta il menù Ma me lo voglio Assolutamente fare Perché devo dire la verità La settimana scorsa Con il menù Mi sono trovata benissimo E mia Dove sei andata a mettere All'anno eh La settimana scorsa Con il menù Mi sono trovata Un c'è ancora la macchinetta spenta Fammela accendere Nel frattempo che parlo Stavo dicendo La settimana scorsa Con il menù Che mi sono preparata Mi sono trovata benissimo Non ho fatto Per esempio Tutti i giorni Spesa da 20 euro Alla volta Una volta 25 Una volta 20 Una volta 21 Una volta 30 Devo dire la verità Mi sono trovata Molto 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 bene E quindi Mo vediamo tra Stamattina O oggi pomeriggio Mi preparo un attimo Pure questo menù Settimanale Poi lo Insomma Lo faremo insieme La settimana Cioè Il prossimo vlog Ve lo faccio vedere E sì Lo voglio fare Perché veramente Mi sono trovata Molto 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 bene Non ho speso tanti soldi In tante Scemenze Diciamo così Comunque lo farò Visto che ho ancora Il congelatore Abbastanza pienotto Fortunatamente Lo farò ancora In base al mio congelatore E Vediamo Vediamo Al prossimo vlog Sono sicurissima No Sicura no Al prossimo vlog Cercheremo di fare assieme Il menù settimanale Io ora vi saluto Mi faccio un bel caffè Sono le 9 Devo passare l'aspirapur Prendo solita routine Come sempre E ci vediamo A Dio piacendo Se tutto va bene Mercoledì Con un nuovo vlog Io vi mando Un bacio forte forte E vi voglio tanto bene ragazzi Grazie sempre Per tutto il supporto E Grazie a Coloro che Capiscono E non fanno Tantissime Tantissime domande Quindi Vi ringrazio con tutto il cuore Un cuoricino E un bacio forte forte Ciao ragazzi Dritto Mor傳 E mamma Pretend Ciao 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 shore